Musica 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 con i passi della scelta e dei peni disegnerò un fumetto con un protagonista in noi e con il tuo cuore o con il tuo cuore prima che venga sera già tornata primavera e a te ora il che ha mai il tuo cuore ma io sono sempre in casa con il tuo cuore ma che venga sera già tornata primavera la primavera mi tu regalare io ho com' ma oh io sono sempre in casa tu darmi mi io sono sempre in casa io ho com' ma No so se in casa, no so se in casa, no so se in casa, tu la posso Se la posso Grazie